La soluzione della vicenda sulle strisce blu, individuata dal sindaco Giacomo D'Apollonio, sembrava aver messo tutti d'accordo. A 24 ore dall'annuncio del positivo epilogo dell'avvertenza però si odono le prime voci fuori dal coro. Raimondo Fabrizio, che pur appartenendo a Forza Italia, è in minoranza a Palazzo San Francesco, biasima la decisione del sindaco perché a suo avviso l'incremento degli stalli rispetto alle decisioni del Consiglio comporta il tradimento della decisione stessa assunta a maggioranza dall'assise. Peraltro Raimondo Fabrizio parla espressamente di un salasso per i cittadini di Sernia. Che è l'ennesima soluzione che va comunque sempre a discapito dei poveri cittadini isernini. È stata decretata l'ennesima beffa per la città di Sernia e ci troveremo comunque con una transazione fatta solo e esclusivamente a favore della ditta concessionaria. anziché essere l'inverso, cioè andare a favore dei cittadini, per l'ennesima volta la città di Sernia pagherà gli sbagli non commessi da loro ma da questa amministrazione oppure da alcuni dirigenti che rimarranno come sempre impuniti. Mi sembra veramente assurdo che abbiamo votato in Consiglio Comunale autorizzato 827 soste blu di cui ben 185 erano al coperto. Invece ci sono stati ben anziché 150 così come previsti che devono essere coperti dall'auditorium ce ne troviamo 75. Questo vuol dire che gli altri 75 verranno messi come stalli esterni che aggiunti ai 40 già regalati da questa amministrazione con un 5% in più per evitare ogni forma di contenzioso, ci saranno per i cittadini circa 115 stalli in più. Vuol dire che in ogni parte della città e dappertutto, anche nelle vie principali ma soprattutto nelle vie secondarie, avremo strisce brute in ogni luogo. Grazie a tutti.